Ciao a tutti ragazzi e bentornati, come avete letto dal titolo quest'oggi togliamo parlare del mondo Apple, di quelli che sono stati un po' i problemi che ho riscontrato negli ultimi mesi con i miei dispositivi sia per quanto riguarda lo smartphone che anche il mio Mac, problemi che sicuramente sono risolvibili e che magari in qualche modo c'è già anche una soluzione che probabilmente io non conosco ed è per questo che ho pensato di mettere insieme questa chiacchierata da fare con voi per avere dei consigli e anche per raccontarvi come sta andando. Prima di cominciare però con i video ragazzi vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, ovviamente di mettere un bel like, ma in particolar modo ragazzi seguite il mio canale Telegram delle offerte dove ogni giorno potreste trovare davvero degli ottimi affari, ma detto ciò cominciamo. Ti tengo a precisare ragazzi che il video di oggi non è una critica nei confronti di Apple o nel mondo Apple perché io ho tutto all'interno del mio ecosistema di Apple, sia il mio iPhone 12 mini, che l'Apple Watch, che l'iPad Pro e anche un MacBook Pro da 16 pollici. Comincerei da lui, dell'iPhone 12 mini, mi ha accompagnato durante le ferie estive di quest'anno, avete visto un sacco di foto, ma il primo problema, quello che ho riscontrato o meglio, che sto riscontrando parecchio negli ultimi mesi e che ha riscontrato anche mia moglie, è la ricezione del dispositivo. Ho l'impressione che si è diminuita nei mesi rispetto all'inizio. Io ho a Vodafone, mia moglie è a Tim, ma in entrambi i casi, nonostante abbiamo due operatori completamente differenti, gli smartphone non hanno la ricezione che avevano mesi fa. Ed è per questo che sto facendo questo video perché voglio sapere la vostra, se anche voi avete notato con i vostri iPhone, una ricezione inferiore rispetto ad un anno fa, otto mesi fa, ragazzi, ho preso anche la mia SIM Vodafone, l'ho messa sul dispositivo Android e la ricezione è superiore. E io non ho solo un iPhone 12 mini viola, ne avevo uno anche, un Pro Max, che l'ho venduto da pochissimi giorni, aspettando il 13, e anche con quel dispositivo, ragazzi, la ricezione non è più quella che avevo tempo fa, quindi non trovo un problema proprio sul mio dispositivo perché non può essere che tre smartphone hanno tutti meno ricezione rispetto a prima, si sono rovinati, sono i miei sfortunati, ma credo che ci sia stato un problema con qualche aggiornamento, qualche update. Gli smartphone non sono quelli di una volta, soprattutto per quanto riguarda la ricezione, cosa fondamentale e importantissima su di uno smartphone, no? Un altro problema che affligge ultimamente il mio dispositivo, quello di mia moglie, è l'accoppiamento, o meglio, l'attivazione delle cuffie Bluetooth Apple nel momento in cui andiamo ad aprirle. Io ho due paia di cuffie Apple, le Airpods Pro e le Airpods 2, insomma, no? Quelle classiche, con ricarica wireless, entrambe perfette perché le ho fatte anche verificare e controllare, ma capita in modo non per forza continuativo, può capitare una volta ogni due o tre giorni, una volta alla settimana, che tu vai ad aprire le cuffie, loro risultano connesse allo smartphone, ma in realtà in cuffia non si sente nulla. Dobbiamo comunque telefonare o comunque la musica a parte dagli speaker dell'iPhone. Questo succede abbastanza regolarmente, la cosa poi strana è che disattivando, riattivando il Bluetooth ricominciano a funzionare e poi magari dopo un paio di giorni la stessa cosa. E questo è un po' sdervante soprattutto se utilizziamo le cuffie per telefonare, ci arriva una chiamata, teniamo fuori le cuffiette, le indossiamo, rispondiamo alla chiamata e non si sente nulla. Come al solito ho fatto tutte le varie prove, quindi ho disattivato, riaccoppiato, rinserito, controllato, caricato, ma questa è una cosa che succede abbastanza regolarmente. Con le Pro, devo essere sincero, mi succede meno, ogni tanto capita ma succede meno. E un'altra cosa che diciamo mi dà un po' i nervi, ma credo che non dipenda solo dall'ultimo update, questa è una cosa abbastanza risaputa, è che quando passo da un dispositivo ad un altro, quindi dal mio iPhone piuttosto che al mio Mac o al mio iPad, l'aggancio, quindi la continuità di quello che è l'ascolto musicale o di un video non è immediata, passano anche 3, 4, 5 secondi prima che le cuffie capiscano che tu hai cambiato dispositivo per farti sentire la musica in cuffia. Questo è un problema che c'è da un po' di tempo e che poi alla fine ti pesa quando devi lavorare, quando hai bisogno di velocità, di praticità, attenzione, con Android questa cosa nemmeno esiste, quindi è una coccola che abbiamo in casa Apple, ma noi tutto questo servizio comunque lo paghiamo e ci si aspetta che sia perfetto. E sono curioso di sapere se anche voi notate questa cosa, sgancio o a volte telefono che ti dice cuffie connesse ma in cuffia non si sente nulla e soprattutto setla un dispositivo e un altro, anche voi avete tutti questi secondi prima che appunto loro si connettano al nuovo dispositivo. Ma adesso passiamo al punto, magari quello che mi fa un po' più arrabbiare perché con quello ci devo lavorare, perché con quello non ho alternative, perché il mio sistema operativo, la mia macchina da lavoro e il mio MacBook Pro da 16 pollici. Ragazzi parliamo di una macchina che costa più di 3.000 euro, parliamo di un prodotto che non è mai uscito dal mio studio, quindi non l'ho assolutissimamente rovinato e parliamo di un prodotto che al suo interno non ha nemmeno chissà quanto, perché a parte Final Cut e il pacchetto Office per andare insomma a scrivere i miei testi, che sono abituato a utilizzare quello e poco altro, diciamo il suo utilizzo base è quello per montaggio video. Final Cut è l'applicazione che utilizzo di più, ma in questi ultimi mesi sto davvero snervando per alcune situazioni che mi capitano magari quando ho fretta e ho bisogno che la macchina sia davvero prestante e lo pretendo che lo sia, visto che ho speso più di 3.000 euro per acquistarla e ci tengo a precisare ragazzi non è che un computer Windows vada meglio di un Mac o viceversa, semplicemente io pretendo che una macchina a livello base non abbia certe problematiche, ma adesso vi spiego meglio. Il primo reale problema, quello che per conto mio non può essere sempre così presente su un dispositivo, su un computer che costa più di 3.000 euro, perché il mio MacBook Pro costa più di 3.000 euro, era una versione praticamente top di nemmeno un anno fa, sono le ventole ragazzi, le ventole che sono perennemente accese come un ventilatore d'estate, sono sempre lì che fischiano e fanno rumore. Il problema non è tanto quando sto facendo editing video, che lì me lo aspetto, che la macchina vada in sofferenza e che quindi le ventole vadano in qualche modo ad aiutare tutto il sistema tenendolo il più fresco possibile per fare in modo che lui continui a funzionare nel modo corretto, ma è proprio che le ventole entrano così casualmente, anche semplicemente quando il tuo computer sopra la scrivania a scaricano un file da internet, cominciano ad entrare e fanno abbastanza rumore, un rumore che dopo un tot di ore che sei lì alla scrivania dà pastiglio, dà pastiglio perché a volte ti chiedi ma cos'ha da continuare a fischiare con queste maledette ventole se non sto facendo nulla di particolare? E questo è un problema che poi cosa fa? Va a peggiorare le performance della macchina, lì comincia a vedere il mouse che lagga un pochettino, comincia a vedere quella classica rotellina colorata di un computer impiantato e non sai nemmeno il perché perché non stai facendo praticamente nulla e lui decide così di macchinare, di macinare un qualcosa finché a un certo punto tonta e riparte. Ecco questo credo sia un problema forse solo del mio computer fatemi sapere se anche voi ogni tanto riscontrate questo problema, se anche voi avete queste ventole che girano come delle pale eoliche per far corrente, non lo so, è pazzesco, queste entrano e inchiodano un po' tutto, quando entrano loro si inchioda anche la macchina e diventa davvero difficile lavorarci. Ma, 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 il problema più grave non sono solo le ventole che entrano in funzione, non sono solo questi lag o questi scatti che ogni tanto ti rendi conto che insomma la macchina fa, anche liberando diverse applicazioni, poi a un certo punto vedi che diventa tutto più lento e sei costretto almeno io devo riavviare il Mac, ma ciò che invece mi snerva davvero parecchio e questa è una cosa che veramente mi urte i nervi perché non ho trovato ancora una soluzione, spero l'abbiate voi perché io ci ho provato, ho provato diverse cose, ma nonostante io abbia una tastiera originale Apple, un mouse originale Apple, regolarmente due, tre, quattro volte alla settimana comincio ad avere dei lag stratosferici con il mouse che ci mette mezzo secondo a ripartire da quando lo lasci di fermo nel, magari per fare dell'altro, ma a volte mi succede anche con la tastiera, vado a scrivere un messaggio, vado a scrivere su una ricerca di Google o quant'altro, vedi che tu scrivi e non esce nulla nel monitor, dopodiché ricomincia a scrivere insomma ci sono solitamente almeno 1-2 secondi di ritardo, tutto questo scompare con un riavvio, ma ciò che mi dà i nervi è perché io devo andare a riavviare una macchina che costa 3.000 euro quando era ferma lì, in quella postazione lì dietro, come vedete, senza che io facessi nulla praticamente non stavo praticamente né montando video né niente, ad un tratto lui comincia a laggare, spengo, riavvio il mouse, i lag spariscono per qualche secondo e poi ricominciano e credetemi, quando state montando un video, avere il mouse che non risponde al vostro comando è snervante, dà i nervi, pensate che ho acquistato addirittura due mouse, ho questo MX Master 3 che costa penso più di qualche centinaio d'euro, non ricordo nemmeno il prezzo, comunque quasi 100 euro e anche il mouse di Apple mi dà lo stesso problema, ho più volte anche contattato persone differenti che utilizzano Mac e mi hanno detto no, noi non riscontriamo questo problema, poi invece faccio un sondaggio su Instagram e più di qualcuno mi dice che anche con M1 c'è questo problema, anche con i nuovi Mac ogni tanto partono questi lag così a caso del mouse, della tastiera, che su macchine ripeto che sono così costose, pensate per il lavoro, è snervante. pensate che c'è stato per un periodo che io avevo un monitor da 49 pollici, adesso l'ho sostituito con questo OC, mi parlerò comunque di tutta la mia nuova postazione appena mi arriveranno gli ultimi pezzi per finirla completamente e credevo fosse un problema del mio monitor, del mio Philips, quindi ho pensato beh adesso mi arriva questo nuovo monitor e questi problemi spariranno, invece ragazzi purtroppo no, i problemi persistono, persiste la ventola che si accende, persiste il mouse che lagga, persistono alcuni blocchi che danno davvero fastidio, attenzione quando avevo Windows le cose non erano migliori rispetto a questo, per carità anche là dovevo fare riavvii, ma quello che a volte non capisco è il dover farlo quando la macchina non sta facendo praticamente nulla, cioè mi aspetti di dover riavviare il mio Mac quando sono in fase di editing pesante, che allora in quel caso il computer ha bisogno di essere riavviato per insomma avere un attimo di, invece no, lo lasci lì tre ore, lo vai a riaccendere, cioè lo vai a riattivare per fare qualcosa e resta tutto inchiodato, cioè qualcosa non quadra. Bene ragazzi per oggi è proprio tutto, ma prima di chiudere mi raccomando spero sia chiaro a tutti, il racconto di oggi sono mie impressioni, non vuole essere un video negativo nei confronti dei dispositivi Apple, parlo dei miei prodotti e di quelle che sono le mie sensazioni, non voglio che cominci una guerra tra i commenti qui sotto, meglio Windows, meglio questo, meglio quello, personalmente spero ci sia una soluzione rispetto a quelli che sono i problemi che ho riscontrato con le mie macchine e sono curioso di conoscere insomma anche la vostra idea, se avete un modo, un sistema per aiutarmi a sistemare questi lag e tutto quello che vi ho appena raccontato. Io per oggi vi saluto e noi ci vediamo presto per un'altra chiacchierata sempre qui all'interno del mio canale YouTube. Ciao ragazzi, nella prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.